non ci sono al mondo abbastanza indiani per sconfiggere il settimo cavalleggeri generale george caster pare che l'abbia detto davvero il generale george caster come è noto il generale caster è morto a nella battaglia di little big on dove si è trovato coinvolto stava distruggendo tutti i possibili nativi americani che trovava come purtroppo è successo nell'invasione da parte degli europei delle terre americane e quindi era molto convinto che nessuno lo poteva fermare il generale caster come viene descritto generalmente non è un tipo simpatico era uno lieto appunto di ammazzare la gente in particolare sti poveri nativi come si dice adesso gli indiani detti allora per via di colombo che credeva di essere andato in india e questi sono rimasti nell'idea evidentemente almeno alcuni e però insomma alla fine l'ha fatto fuori spiace perché il fatto che qualcuno venga ammazzato è sempre spiacevole la questione complicata però sta di fatto per dal nostro punto di vista che suggerisce una certa calma non essere troppo presuntuoso un conto essere convinti di quello che fai credici fallo con convinzione ma con molto rispetto dei tuoi interlocutori e senza perderti in fantasie irrealistiche perché non è detto che veramente non ci siano al mondo abbastanza indiani per sconfiggere il settimo cavalleggeri